Questi siamo io e mio padre. Lui è quello che se ne sta volando via dall'urna. Riposa in pace, papà. Beh, per la verità non avevo pensato alla gente che mi sedeva dietro. A lui questo non sarebbe piaciuto molto. Non era una persona che amava alzar polvere. Era un uomo modesto e tranquillo, Harold Smith. Bene, questa è la storia di qualcosa di speciale che mio padre fece per me molti anni fa.